L'amministrazione Italia senza scrupoli ha confermato per il 2024 l'alicote IMU nella misura massima. Il gruppo consigliare del Partito Democratico critica la delibera sulle alicote IMU per il 2024 approvata dalla Magianza del Sindaco Italia nella seduta del Consiglio Comunale di Siracusa. L'amministrazione Italia desiderosa solo di fare cassa ha confermato per il 2024 l'alicote IMU nella misura massima non ascoltando nessuna delle richieste di riduzione avanzate dall'opposizione. Lo dichiara il gruppo consigliare del PD Massimo Milazzo, Sara Zappullo e Angelo Greco. Il Partito Democratico in particolare aveva chiesto di esentare dal LIMU le seconde case di nonni e genitori concesse con un accomodato registrato ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado nell'ottica di aiutare le giovani coppie che intendono formare una nuova famiglia. Aveva chiesto di esentare dal LIMU i fabbricati e i terreni degli enti del terzo settore adibiti a scopi istituzionali nell'ottica di agevolare chi giornalmente svolge attività di volontariato in favore di minori, persone desegiate ex detenute, persone che intreprendono il difficile percorso di affrancamento dalla droga e dall'alcol, ecc. Aveva chiesto di esentare dal LIMU i terreni agricoli colpiti nell'anno precedente da incendio dovuto a caso fortuito o a fatto di terzi nell'intento di aiutare concretamente i proprietari che hanno visto letteralmente andare in fumo le loro coltivazioni. Aveva chiesto di ridurre il 50% dell'alicota IMO sui terreni agricoli destinati a colture di vegetali o arbusti da impiegare nelle centrali e biomassa o nella produzione di biocarburante al fine di intraprendere una politica amministrativa di favore verso l'ambiente e le forme di produzione di energie alternative al consumo dei prodotti fossili. Nessuna delle proposte del PD è stata approvata, così come nessuna proposta delle altre forze di opposizione all'interno del Consiglio Comunale. A due giorni dall'approvazione della esosa tassa di soggiorno, il Sindaco Italia ha dimostrato di anteporre tasse imposte ad ogni serio confronto sui bisogni della città e sulle scelte politiche per migliorarla. Siracusa si ritrova oggi con l'IMU confermata nell'alicota massima a fronte di scarsi servizi, in termini di traffico cittadino, di parcheggi, di illuminazione pubblica, di rete idrica, di strade periferiche, conclude il gruppo consigliare del Partito Democratico.